Sono davvero numerose le iniziative per le manifestazioni Antoniniane 2015. Si comincia lunedì 29 giugno con un concerto in Basilica e si procede nelle serate successive con appuntamenti in piazza e con un incontro il 3 nella sala dei Teatini. Per il giorno clou sabato 4 luglio è prevista anche la consegna dell'Antonino d'Oro. Il significato religioso è quello di ricordare che c'è un'apertura, la trascendenza nel cuore di ogni uomo e nella vita di Sant'Antonino questo viene molto chiaramente testimoniato. Una fedeltà al Vangelo, quindi una fedeltà a Dio che però passa proprio attraverso una fedeltà profonda all'uomo, quindi al bene in questo caso della nostra città. Ci sarà anche la consegna dell'Antonino d'Oro? Sì, quest'anno è stata scelta Anna Maria Canopi che è madre del monastero Mater Ecclesia che si trova sull'isola di San Giulio, provincia di Novara e anche fondatrice. La scelta è legata all'anno della vita consacrata che Papa Francesco ha voluto. Ci sembra una bella figura anche perché è un richiamo all'interiorità, la capacità di fare silenzio in una cultura spessa in cui c'è l'inflazione della parola. La sera dello stesso giorno in Piazza Cavalli si terrà infine Piacenza nel cuore, tradizionale rassegna della canzone dialettale con Marilena Massarini.